L'Aggiunta Marsiglio, il Presidente Marsiglio e l'Assessore Veri sono ancora desaparsido. Al momento si sta tenendo la Quinta Commissione nella quale hanno ritenuto di non venire a chiarire qual è la loro posizione di fatto sulla riorganizzazione della rete ospedaliera nella nostra regione. Il Consiglio regionale che abbiamo di fronte è un Consiglio regionale completamente vuoto, cioè non c'è un provvedimento in favore degli abruzzesi, all'ordine del giorno ci sono solo interpellanze. Ieri abbiamo visto una visita di Salvini, un racconto di Salvini che ci racconta una realtà parallela rispetto a quello che avviene nella nostra regione. Salvini ci parla di quanto sia efficiente la regione Abruzzo, di quanto il governo regionale sia gradito. In realtà forse non gli hanno raccontato a Salvini che la legge approvata da questo Consiglio regionale è voluta dalla maggioranza e priva di coperture per cui nessun aiuto o quasi arriverà in favore degli abruzzesi e soprattutto delle imprese abruzzesi e non gli hanno raccontato che questa maggioranza non è poi così gradita e che tutte le promesse che sono state fatte in campagna elettorale dai palchi gridate a gran voce purtroppo non sono mantenute.